Sono qui perché ho... perché io... perché mi sono svegliata a ricoperta di sangue e avevo... avevo lividi su tutto il braccio e... succede quando cado e qualcuno mi aiuta a rialzarmi. Mio marito... di solito mi diceva quello che avevo fatto la sera prima. E ho imparato che quando ti svegli in quel modo dici solo mi dispiace. Dici che ti dispiace per quello che hai fatto, che ti dispiace di essere così e che non lo farei più. Però lo fai, lo fai ancora. Quella sua volta... Perfetto Dosi Il Cristo Perfetto Il Cristo Il Cristo Il Cristo Grazie a tutti